Sinto a Uncreative, la mostra di pittura allestita a Cosenza da Adolfo Magnelli. Vediamo di che si tratta. L'ambizione, il consumismo e il denaro impegnano l'uomo che, troppo intento a raggiungere i propri scopi, trascura il bene più importante che è la vita stessa. E' questa una delle chiavi di lettura dei quadri dell'artista cosentino Adolfo Magnelli. Le tele, definite dall'autore un misto tra realismo e spiritualismo, hanno come tema dominante il parto. Ho usato il parto come espressione della creatività. Cioè tutto ciò di cui noi non ci accorgiamo fa parte di noi stessi, fa parte della creatività. Noi non ci accorgiamo di essere completamente creativi, totalmente creativi, momento per momento. E quindi, paradossalmente, partoriamo ogni momento eppure non ce ne rendiamo conto.